Ottimizzare il processo di valorizzazione dei crediti acquisiti che hanno stato per i limiti e quali le previsioni future? Allora, il mondo soprattutto degli UTP, cioè di quelle aziende che hanno magari un problema solo contingente ma sono in difficoltà, aiutarle a uscire da questa situazione, capire con loro se il problema è contingente, manageriale, strategico, fare nuova finanza perché UTP è soprattutto fare credito ad imprese vive, non è come nel mondo negli NPL cui c'è sostanzialmente un problema di recupero. Qui si tratta di aiutare aziende, stare vicino ad aziende che vogliono ritornare performing e hanno la capacità, l'ambizione di poterlo fare. È chiaro che per fare un lavoro di questo genere bisogna giocare su tutta la tastiera degli strumenti, bisogna usare il credito, bisogna usare l'equity, bisogna usare il servicing, bisogna avere la capacità di investire in queste aziende e questo è il lavoro fondamentale in cui noi ci siamo come i limiti specializzati e soprattutto nel mondo del corporate UTP. E quello che in più ci aggiungiamo in questi processi di ristrutturazione aziendale è il portare la competenza di settore, cioè per esperti di quel settore che partecipano con l'azienda e con noi a capire i piani aziendali, a valutare l'azienda e poi a seguirli nel loro sviluppo.